... però ecco la digitalizzazione interna ... ... ... Perciò ricapitoliamo. Aspetta. Ma così è meglio? Sì. Certo. Ora ti metto. Un gettone. A presto. Perciò ricco. Perciò ricco. Perciò ricco. C'è mio zio che le sta facendo, sono le cinque, ce la sta ammattaggiando. C'è mio zio che le sta facendo, sono le cinque, ce la sta ammattaggiando. C'è mio zio che le sta facendo, sono le cinque, ci sono le cinque. C'è mio zio che le sta facendo, sono le cinque. C'è mio zio che le sta facendo, sono le cinque. C'è mio zio che le sta facendo, sono le cinque. C'è mio zio che le sta facendo. C'è mio zio che le sta facendo. C'è mio zio che le sta facendo, sono le cinque. C'è mio zio che le sta facendo. C'è mio zio che le sta facendo. C'è mio zio che le sta facendo.